Comunque a mio m'aveva messo le blu, le ho messi io e le verdi Ma vanno un secondo più veloce Sì sì, l'ha segnato meno 9 dash, una roba del genere Mamma mia quanto si sbanda lì Occhio, occhio in curva 4 Steph fuori Occhio a non uscire fuori dai limiti, eh Alza il piede Perché tanto qualcuno verrà squalificato e finirà fuori tipo Steph No no Le segna un secondo meno o no? Tranquilla Secondo meno Sì sì, l'ha segnato 9 Meno 902 c'è scritto Meno 902 No no, ma se te le segna così Vuoi dire che le blu vanno peggio Sì, le blu vanno peggio PK fuori, clamoroso Vediamo Eh, non è Paul Non è Paul Vediamo Io qui non sono neanche Squalifica per PK Secondo 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 Sì Una squalifica e un ritiro, credo Ah, Ghost Lion ha un secondo e mezzo da cingolani Che io cingo in due decimi E poi guarda là Tutti motor Quattro Cinque E via Via, via Via Oh, partenza a fionda di Steph Falza partenza a fionda di Steph Partenza a fionda di Ghost Lion Incredibile Vediamo, c'è un entramento Botti Steph Falza partenza Ghost Lion leader Ghost Lion leader virtuale Forse, eh Perché non so se c'ha il drive-thru Steph Sbaglia Sbanda tantissimo Crea il panico Attenzione Cingolani Ghost Lion Steph Cosa fa? Fa la falsa partenza Poi si scansa Crea casino Crea panico Incredibile Errore di Steph Torna leader Cingolani Steph Doveva andare dritto Doveva proseguire Era inutile E Theobatics Four Theobatics Four Tre membri dello staff Davanti Su quattro Che ha fatto Che ha approfittato Del foro Che ha creato Steph il tempo ha aperto le acque qui parte sempre bene nella curva quella rognosa oh, Ghost Lion all'attacco di Cingolani prende l'Inter quasi contatto prende anche l'Inter MC e va dentro va dentro MC Cingolani perde due posizioni in un colpo solo il Polman oh, Steph Steph, ritiro disastro, totale nell'esordio con la Minardi peraltro vediamo se c'è virtualo Steph credo che sia ritiro volontario perché la macchina va è in basso no, no, no si è ritirato col menu è Steph, rage quit Steph, rage quit bruttissimo esordio con la Minardi eccolo lì la piazzola disastro totale per Steph rage quit poi di rabbia per la brutta prestazione prende male l'ultima curva infatti Ghost Lion si salva l'ultima curva non c'è così tanto guadagno oh, Ghost sbaglia si gira botto botto per il leader della corsa ed è colpo di scena incredibile l'inseguitore del championship è fuori fuori dalle medaglie anche incredibile si è girato per l'usura delle gomme pure lui in uscita di curva 1 no forse ha toccato il muro però avrà rotto qualcosa incredibile regalo per MC per aver saltato Australia 1 Australia 2 torna in Ungheria del leader della corsa no, no tu proteggi non buon lavoro si è girata una vettura arancione chi è? chi è? l'hai visto? si ferma il leader della corsa si ferma il leader del mod X-17 stop perfetto prosegue Carrot prosegue Sefil prosegue P.K incredibile colpo di scena ed MC rimane il leader virtuale della corsa con Cingolani si si con Cingolani che ha perso tantissimo tempo Cingolani ha perso tantissimo tempo provando l'undercut per MC non ci sono fermati Carota Sefil e P.K c'è c'è un altro qui davanti c'è un altro ultima curva ed è win per Prema win per MC torna e vince gara incredibile risultato abbastanza particolare perché sembrava che andava un piano Cingolani chiude secondo il poleman vediamo Carrot perché Cingolani è andato in penalità Carrot su McLaren e gli chiude vicino Iceman P.K ancora più in penalità quindi rischio il risucchio da Shark infatti avviene Shark medaglia di carta Ghost Lion non ce la fa chiude settimo Ghost Lion il seguitore del mondial qui siamo e in fondo vai Dario vai oh c'è un spadigliame incredibile sono qualche piloti lenti oh mi è venuta addosso un Aston Martin credo e mi ha colpito alcuna mia clara che continua a venire addosso morti ovunque vengono in difficolt oh Dario si vede di te ma no ho un leggero danno all'anteriore e sinistra si ah no è un danno proprio all'anteriore e sinistra arancione no ce l'ho oh Blink va lungo oh Blink entra e uccide Smegor mamma mia incredibile ma perché la Aston Martin si è scansata e è venuta di là ok Dario ci stiamo portando dietro Cingolani e Tobetix Tobetix in rimonto Cingolani al pit Cingolani al pit vai Dario vai Dario sei in medaglia di carta vai 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 cerco di darti una mano avanti stanno volando no no sono cinque giri no no non ce la fa attaccare sono le due Prema a fermare a Brown e Tobetix che prova adesso un attacco difficile difficile se no difficile vai vai Dario sacrificio Prema va Tobetix va Tobetix Tobetix dentro dentro Tobetix si si chiudiamo la sandwich ok battery is looking good you can use overtake to get past ok ok l'ultima a destra anch'io oh botto tremendo ma cazzo Dario ti sei spostato all'ultimo ma hai buttato contro Teo mio Dio ho partito un'altra ala ho partito un'altra ala di qualcuno oh oh ho trovato no dietro a tutti ho rotto tutto sono sto lottando con carota siamo senza ala abbiamo un'altra problematica abbiamo un'altra problematica Ah, la farota è stata mangiata, adesso mangiano anche me. Sì, è anche vitto. Sono decimo. Ah, ho sbagliato il gioco, capito? No, non passa Brian all'ultimo. Oh, lungo così, mamma mia. Ma la farota è fuori. Ah, ma ha passato Brian all'ultimo, fuori dai punti. Eh, ma lui era messo meglio con l'ala. Infatti ha passato all'esterno, io non riuscivo a girare l'ultima curva. Ah, fuori dai punti, che disastro. Eh, ti sei spostato mentre io tiro a fianco. Vabbè, vabbè dai, almeno te sei andato a punti, no? Posizione? Sì. Oh, bravo.